È chiaro, come ho detto tante volte, che in questa legge di bilancio non ci si aspettava molto, viste le dichiarazioni del governo, ma la proroga è necessaria. E lo chiedono tutte le associazioni, i sindacati, tutti coloro che operano intorno al settore dell'edilizia, per quanto riguarda i condomini soprattutto. Te ne parlerò tra poco. Intanto lascia mi piace, attiva le notifiche e abbonate YouTube se vuoi accedere a contenuti esclusivi e sostenere il lavoro che faccio online. Recentemente il DDL bilancio 2024, il disegno della legge di bilancio del prossimo anno, è approdato in Parlamento al Senato e quindi è iniziato l'iter di approvazione. La versione approvata dal Consiglio dei Ministri, che poi è stata modificata e addirittura oggi è arrivata una correzione per quanto riguarda le mamme e i bonus per le mamme con più figli, ma su questo magari ne parlerò nel canale personale, non porta nessuna modifica al super bonus, nessuna proroga, nessuna risoluzione dei problemi, nessuna cancellazione o modifica alla cessione del credito. In parte ci si aspettava questo, in parte ci si aspettava qualche piccola modifica o riordino bonus che era stato annunciato settimane e mesi fa. In realtà non è arrivato nulla tranne tasse sul super bonus. Perciò al 31 dicembre finirà il 110, finirà il 90%. Per le unifamiliari in modo netto, per i condomini invece ci sarà la transizione al 70%. Significa che non finisce il super bonus per i condomini, finisce la percentuale più alta. Il che è come dire che finisce al 31 dicembre il super bonus, perché l'agevolazione con la percentuale più alta, con questa capacità di attirare, di dare modo a coloro che non potevano fare una ristrutturazione, una riqualificazione del proprio edificio, dare modo con una percentuale così alta di accedere a un beneficio, viene meno quando la percentuale scende al 70%. Perché ci sono i bonus ordinari addirittura che sono più vantaggiosi del futuro super bonus. Il problema soprattutto è per chi è in corso d'opera e ha avuto dei rallentamenti, perché chi non è partito il danno è limitato, diciamo così. Per chi invece è in corso d'opera e ha subito dei rallentamenti, passare con i lavori al 2024 è un grave problema, perché nel quadro economico, nella valutazione delle proprie tasche, delle proprie disponibilità per pagare le spese di riqualificazione o di ristrutturazione dell'edificio, cambia un bel po'. Si passa dal 110% al 70% di agevolazione, anche con tutti i contratti di cessione, sconto e tutti i diritti acquisiti e quindi i maggiori vantaggi possibili di questo ex super bonus, possiamo parlare già al passato. Ma passare al 70% è un problema, soprattutto alla luce della recente risposta dell'Agenzia delle Entrate al Telefisco, che in modo molto restrittivo ha detto che chi usufruirà di gestione del credito e sconto in fattura lo potrà fare solo per il 2023, in riferimento a quanto effettivamente è realizzato al 31 dicembre 2023. Tradotto, non puoi anticipare le spese per sfruttare la recente eventuale più alta ed eseguire i lavori nel 2024. Su questo ne ho già parlato e sai già che ci sono dei pareri molto contrari da questo punto di vista. Però ad oggi rimane l'interpretazione ed è una tua scelta se rischiare o meno. Io ti ho detto già come la penso. Arriva di nuovo con più forza una richiesta di proroga del super bonus, di alcuni mesi. Arriva da parte di ANCE, altre associazioni, alcune sigle sindacali. Richiedono questa proroga perché è necessaria per completare i lavori, per permettere di completare i lavori a coloro che hanno subito dei rallentamenti. E quindi la richiesta è specifica per i condomini in corso d'opera, con un determinato SAL, probabilmente con un determinato stato di avanzamento lavori a fine anno, per permettere di non perdere dei soldi appunto per queste, per le motivazioni che ti ho appena detto, ma anche per altre. Perché passare al 70%, quando invece era tutto programmato e previsto per un 110 o un 90%, determinerà tanti problemi, tanti contenziosi, tanta perdita di posti di lavoro per le imprese che andranno in difficoltà, perdita di denaro per le famiglie che dovranno sborsare più soldi di quelli che avevano preventivato. Se li hanno, altrimenti dovranno accedere a una linea di credito. Se riescono ad accedere ad una linea di credito. E poi c'è da tenere in considerazione l'aspetto pratico di esecuzione dei lavori. Moltissimi colleghi mi riportano la situazione difficile di questo fine 2023, perché tutti vogliono correre. Chi sta facendo corre sempre di più. Le imprese corrono per evitare che i lavori vadano nel 2024. E che cosa succede? Lavori fatti di fretta, quindi con alta probabilità, con maggiore probabilità che vengano fatti male, oppure per completare i lavori, visto che si hanno magari diversi cantieri, le imprese si avvalgono di altre imprese in subappalto, che magari non hanno tutta l'esperienza necessaria o abbastanza esperienza da poter garantire il risultato. E poi c'è l'aspetto sicurezza. Con la fretta c'è un maggior rischio di incidente, c'è un maggior rischio di farsi male. Si accavallano le lavorazioni per necessità di completare prima. Quindi tutto ciò che era stato previsto nel diagramma, nel cronoprogramma, in modo magari sequenziale, perché era possibile dividere le lavorazioni, visto che è necessario farle e completarle il più possibile entro il 2023, si tenderà ad accavallarle. E quindi più lavoratori di più imprese sullo stesso cantiere, nello stesso momento, aumenta il rischio. E aumenta il rischio di farsi male. Sembra una banalità, per niente, perché la sicurezza nei luoghi di lavoro è un argomento molto sentito, non tanto dalla popolazione, quanto dalle imprese e da tutti coloro che lavorano nell'edilizia. E poi ci sono molte salatissime. Tutto questo, tutta questa fretta, tutta questa necessità di completare i lavori entro fine anno determina un grosso rischio per molti aspetti. Diversi rischi per molti aspetti. E per questo chiedono di nuovo la proroga in modo netto. Molti confidano che arriverà comunque entro fine anno, all'ultimo momento. Ad oggi non ci sono aperture ufficiali. Con questo ho concluso. Ti ringrazio di essere arrivato fin qui. Lascia mi piace se ancora non l'hai fatta e ci vediamo al prossimo contenuto.